La terra è molto più vecchia di te e di ogni essere vivente. Esiste da milioni di anni. Ha visto nascere le montagne e ha visto ghiacciai e fiumi scavarle. Ha visto i laghi formarsi e ha lasciato che il mare si ritirasse dalle terre per farle emergere. Ha visto nascere i primi esseri viventi, ha atteso pazientemente l'arrivo dell'uomo e ha accompagnato e osservato il suo lento progresso. Gli uomini si sono fatti delle domande sull'origine della terra. Le domande di fondo erano e sono che cosa c'era prima della terra, come si è formata la terra. Tutti i popoli dell'antichità avevano in comune la convinzione che la terra fosse stata creata, ma le opinioni su che cosa precisamente fosse avvenuto erano diverse. Si formarono così molti miti, cioè racconti sulle origini della terra. In ogni cultura, di ogni popolo e paese, sono presenti miti che oggi costituiscono una ricca documentazione del pensiero umano sulla cosmogonia, parola che significa nascita dell'universo. Qualcuno credeva che la terra fosse scaturita dalla lotta tra divinità diverse, alcune buone e altre cattive, oppure un'unione simile al matrimonio tra gli uomini e le donne. Gli esseri umani hanno avuto una grande capacità di creatività nel raccontare mitologicamente l'origine della terra. Gli antichi egizi credevano che prima della terra ci fosse solo acqua, ma il dio Ra, il sole, si innamorò dell'acqua e dalla loro unione ebbe origine la terra. Questo antico popolo credeva anche che molte divinità fossero presenti sulla terra. Lo stesso faraone, cioè il sovrano, era per gli egizi un dio che viveva sulla terra. Secondo il popolo babilonese, la terra ebbe origine dal dio delle scienze della magia, Marduk, che sconfisse il caos. Si dice infatti in un antico poema. Marduk coprì le acque di uno strato di canne e quindi creò la terra e ve la pose sopra. Per dare agli dei delle belle case, creò gli uomini. Egli creò gli animali e gli esseri viventi sulla terra. Creò le ofrate e le tigri. Ne stabilì il corso e diede loro il nome. Secondo la tradizione induista, gli dèi, e in particolare il dio Brahma, per formare la terra, hanno plasmato la materia che già esisteva. L'uovo cosmico, identificato spesso con lo stesso Brahma, galleggiava nell'oscurità di un oceano primitivo. Poi si schiuse. La parte superiore era d'oro e formò il cielo. La parte inferiore del guscio era d'argento e formò la terra. Le altre parti dell'uomo formarono le montagne e le nubi. Il liquido formò i fiumi e i mari. Per i nativi americani, prima che tutto avesse origine, c'era una grande acqua. Un giorno, il grande capo trasse dalle acque il fango che era sul fondo e con questo fece la terra e le montagne. Anche nella tradizione ebraica c'è un racconto sulla creazione della terra. Nella Bibbia, infatti, si dice che all'inizio del tempo Dio volle creare il mondo dal nulla. La prima cosa che fece furono i cieli e la terra. La creazione della terra è narrata nel primo capitolo del primo libro della Bibbia, la Genesi, una parola che significa appunto origine. La Bibbia racconta, in principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forme e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Ma ancora mancava qualcosa. Non c'era vita sulla terra. E così Dio fece nascere germogli che producessero piante e frutti e fece gli animali per chi abitassero le acque, la terra e i cieli. Animali grandi e piccoli popolarono la terra. Iniziarono a muoversi felici, a cantare e urlare di gioia. esseri di ogni tipo si moltiplicarono e la terra si riempì di vita. Dio vide quanto aveva fatto. Tutto era molto bello e buono. E quasi si stupì della bellezza della sua creazione.